Signore e signori, sta per iniziare, va ora in onda, una nuova puntata della nostra consueta La nostra trasmissione in diretta web, online, live, di lunedì sera, qui su Science Web Network, in Science Web Radio e Science Web TV A cura di Econ, il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca E l'inimitabile, grande e grosso, SAIUTS! In, provvisoriamente, i due compagni più uno, M, 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 ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali Perché quelle cerebrali non ci sono più Tre, sì, perché per l'appunto giunta la sua terza edizione, la terza stagione Il terzo anno che va in onda in diretta qui su Science Web Network, il lunedì sera E appunto come ogni due di sera, quasi, in onda, dalle ore 22 circa Ovvero dalle 10 pm, le 10 di sera, sempre rigorosamente orari italiani Della Severlin Frankfurt Roma, CET, SET, SET, EUROPEAN TIME E per un'oretta e mezza circa, almeno cioè fino alle 23 e 30, più o meno Vi terremo compagnia con i nostri ospiti E quindi, se volete intervenire in diretta, oppure anche contattarci, semplicemente Potrete farlo attraverso le nostre pagine qui nel web Anche scrivendoci nel nostro sito, direttamente in www.saiuswebnetwork.it Pure adesso, durante la trasmissione, tramite la chat che trovate aprendo il nostro sito In cui, peraltro, potrete fare delle domande direttamente agli ospiti in questione O anche tramite le nostre caselle di posta elettronica Info-Saius.com Gianluca-Saius.com E Luca-Saius.com Nonché poi ci potrete sempre seguire anche in Facebook Nella nostra pagina in Facebook con il nome Saius Web Network E poi ancora in Twitter con il nome Chiocciola Saius Quindi, at Saius, tutto attaccato minuscolo Ed infine, su YouTube troverete le cose che il mitico Saius carica per tutti noi In YouTube con il nome Saius Radio, tutto attaccato minuscolo E poi, vi ricordo, la nostra pagina, il blog in www.saiuswebnetwork.net Perché Saius Web Network è Saius Web Radio e Saius Web TV Ti vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza Nonché pure per una maggiore completezza di informazioni Che il brano che ascoltate in sottofondo Qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra consueta trasmissione in diretta web Dei lunedì sera su Saius Web Network Provvisoriamente i due compari più uno, due Si intitola Bluesin Tratto dall'album First Studio Session Degli Steel Nameless Questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia E più precisamente da Alcamo In provincia di Trapani E che comunque potrete sempre trovare Come tantissimi altri strepitosi artisti Che noi di Saius Web Network Scoviamo in giro per la rete E mandiamo liberamente in onda Anche sotto licenza Creative Commons Sempre nel solito sito di Jamendo In www.jamendo.com Ed ora signore e signori Che la diretta abbia inizio Si parte Via Ed eccoci qui In diretta Wipe radiofonica Del palinsesto Di Saius Web Network Punto it La seconda puntata Dall'inizio dell'anno Siamo intorno Siamo al 19 Quindi ci siamo già mossi Quest'anno Abbiamo tolto tutta la La polvere di dosso Dopo una pausa Durata forse un mese E ritorniamo qui di nuovo Dopo aver avuto ospiti La settimana scorsa Questa band Ritorniamo questa sera Con un gruppo Che io e Priscilla Abbiamo conosciuto Qualche settimana No Qualche mese fa Mese ormai E mesi Anni Il tempo vola Effettivamente È volato Due mesi fa Effettivamente Due mesi fa Esatto Quindi Avremo ospiti Abbiamo ospiti Questa sera Claudio Che tra poco Introdurremo Che rappresenterà Questa band Di cui comunque Avremo modo Durante la serata Di parlare Ampiamente Io do subito Quindi la passo Subito alla palla Prima a te Priscilla Perché torni Finalmente Operativa Indiretta Perché tu Non ti sei mai Fermata Effettivamente Anche la settimana Scorsa L'avevi portati tu Quindi Hai fatto tu Il lavoro sporco Del caso E quindi Ti passo subito La parola Che immagino Insomma Vorrei anche tu Dare il benvenuto Il ben ritrovati A tutti gli ascoltatori Prego Priscilla Esatto Allora innanzitutto Buonasera E buon anno Visto che Non ho avuto modo E tempo E luogo Siamo a Pasqua Un altro po' E buono Quanto Quanto hai ragione Quanto hai ragione Ma la colpa è nostra Perché effettivamente Sai Se te siamo un po' Io più che altro Un desaparecido Sparisco No Scusa Ti ho interrotto No Vabbè Più che altro Mi dispiace La volta scorsa Di non esserci stata In diretta Ma Avevo un mal di testa Terribile E ce l'ho avuto Per due giorni Non riuscivo a passarmi E quindi Ho dovuto Declinare Diciamo L'invito A condurre La puntata Insieme a Luca E un po' Mi dispiaceva Perché c'era una band Appunto che conosco Del modenese Che appunto Anche loro Mi sembrano Abbastanza bravi E quindi niente Bentornati Non sono male No dai Sono bravi Dai Sono bravi No no Molto bravi Adesso stavo ironizzando Assolutamente Dai Sono bravi Eccezionale No no E poi tra l'altro Abbiamo anche avuto La possibilità Una volta tanto Di mandare i loro pezzi In diretta Quindi abbiamo anche avuto Modo di conoscerli Proprio Anche musicalmente parlando In tempo reale Anche perché io mi affidavo Alle tue conoscenze Della band Tu ovviamente Mi hai dato il ben servito E quindi Però sono stata brava Perché ti ho dato La scaletta di domande Sei stata Questa fenomenale E tu non l'hai guardato Immagino No io guarda L'ho seguita Pidissequamente Non scherzo a fare No no Effettivamente È stata molto Molto utile No quindi intanto Ben ritrovata Quindi anche te Cara Priscilla Che torni Dopo i tuoi impegni Artistici E non solo E ovviamente Abbiamo Il grande E grosso Sajus Che invece Lui non manca mai È sempre presente Non solo In questo programma Che tra l'altro Non ho neanche citato Provvisoriamente I due compari Più uno Questo è il nome Del programma Perché appunto Si fosse perso L'evento Dicevo Sajus Non è presente Solo questa sera Ma è presente Tutte le sere Con anche I altri programmi Presenti in palinsesto Quindi caro Sajus Ti do ovviamente Do il benvenuto Anche a te Anche se poi È casa tua Giusto? Ma benissimo Benissimo Luca Stasera Ho bandato a casa Prima la mia Badande Ad Algisa Quindi non ci sono problemi Sono solo Soletto Natolia non c'è più Quindi siamo tranquilli Questa sera Senza vocini O vocioni O vociacce Hai fatto bene A dire che facciamo Tante altre trasmissioni Questa trasmissione Di punta È la prima Che abbiamo fatto Insieme a Mitichino Gialluchino Mancusino E ben ti ricordi È che Riguarda la musica Riguarda l'aspetto artistico In generale Ma soprattutto Le band I gruppi musicali I cantanti Poi abbiamo anche Trasmissioni Che riguardano Il sociale Le associazioni Non i partiti politici Ovviamente Perché ci tengo a dirlo Ma soltanto Tutto ciò che riguarda Possiamo dire Lo scibile umano Chi fa del bene agli altri Chi fa del bene agli altri E quindi Non voglio parlare Delle altre trasmissioni Perché questa sera Sono già alle 22.09 Abbiamo iniziato a parlarci E non abbiamo ancora presentato L'ospite della serata No adesso ci arriviamo Quindi ci vorrei arrivare Con l'ospite della serata Volevo solo ricordare Gli amici Se per chi si fosse messo In ascolto In questo momento Che c'è la nostra chat Sul sito ScienceWebNetwork.it Ma anche il numero di telefono 0422 16 26 622 Si può mai sapere Qualcuno gli scappa Che prende un telefono in mano E che chiami Può succedere anche questo Storio nella vita Magari ci fanno gli scherzi telefonici Non ho scherzi telefonici Che bellissimo Probabilmente è così Però chi lo sa Vai Lucchino Vai Vai Che sei tutti noi Una cosa che Una cosa che volevo dire Tenevo anzi a dire Poi dopo finalmente Intorno diciamo Claudio Che ormai si sta raddormentando Vedo un cantuccio No praticamente Il grande mitico Gianni In realtà Ricordiamolo sempre lui Lo speaker di questo programma Però per motivi Artistici Perché ricordiamo che lui Tra le altre cose E anche attore Dico tra le altre cose Perché ha curato anche la regia Di questo Di uno spettacolo Che tra l'altro Sta riscuotendo anche Un notevole successo Quindi diciamo che Motivi varia lo tengono Lontano da noi Ma presto ritornerà Vicino nel cuore però Esatto Un saluto a Gian Perché Chi lo sa Che non riesca a liberarsi prima E magari Riesca anche lui Ad aggregarsi A questa combriccola Che stasera Andrà A intervizzare A fare due chiacchiere Con Claudio Detto questo Claudio Eccoci qui Eccoci qui Claudio che rappresenti Sulle tue spalle Come dicevamo prima Nel fuorionda Le origini della specie Buonasera Claudio Come stai? Buonasera a tutti Benissimo Tutto regolare Da dove Lo so già in realtà Però Devo fare un po' la parte No? Fausto che sei Da dove ci stai chiamando? Sai quelle cose? Noi chiamo Dall'estremo nord Siamo Del Trentino Siamo Di Cles A pochissimi chilometri Con l'alto adio Pensa Sai È ancora più a nord Di dove Risidi tu Ricordiamo sempre Che noi siamo Un po' più Siamo disparati Su tutto lo stivale Io ci ho vissuto 13 mesi a Trento Però Ricordati Sì? Ti ti darà 100? Sì No ma nel No Ho vissuto 13 mesi No No Quando La militare Mi mandarono a fare L'alpino a Trento Esatto È vero questa cosa Ma me la ricordo Questa cosa Io È un cappello d'alpino Te la ricordi No? Sì Mi ricordo O delle riminescenze No No Mi avevi raccontato Le tue esperienze Cioè Tra un grappino e l'altro Mi hai raccontato Delle tue esperienze d'alpino Questo Questo rammento Quindi Hai lasciato un po' il cuore Anche tu In quella In quella terra Tornando invece a Claudio Scusami Che andiamo sempre fuori Fuori tema Qua Incredibile Non riusciamo a tenere un filologico Questa sera Fantastico Ma è sempre così Claudio Guarda Lasciò fare È un disastro Se poi passano le 11 È finita Perché Luca Non capisce più niente Eh sì Perché lì l'alcol Inizia a fare effetto Adesso non ancora Eh lo vedi Il bicchiere di birra Che c'hai in mano Allora Carissimi ascoltatori Claudio Dove l'abbiamo conosciuto Guarda Dove è saltato fuori Questo Questo artista Anzi Il frontman di questa band L'origine della specie Li abbiamo conosciuti Priscilla Dillo tu Perché effettivamente Eri tu poi Io facevo solo L'accompagnatore Quella volta Io Sì Ho fatto pubbliche relazioni Un po' Con le band Tipo Stile gruppi Dai Un po' meno Perché non ho rimorchiato Era tutta colpa di Luca Che mi stava appizzicato No guarda Io mi ero assolutamente Assentato per tutto il tempo Cercando di trovare qualcuna E invece non ho trovato Niente di interessante Tu invece Hai fatto la malora Come dicono Da queste parti Nel senso che Insomma Hai scambiato contatti Con tutte le band E anche con i detti lavori Quindi proprio Esatto No questa band Origini della specie Conosciuti durante questo contest Musicale Il musicale Esatto Il musicale Di cui abbiamo parlato ampiamente Se vi ricordi Priscilla Esatto A cascine di buti E le origini della specie Come Priscilla Non si sono classificati No scherzo a fare Sono anche loro arrivati In finale Ovviamente per quello che riguardava La categoria band E devo dire la verità Vabbè adesso io non sarò di parte Perché tu sei qui Claudio Però sinceramente Quella sera lì Per la sera della finale Dovendo scegliere Forse Anzi Probabilmente avrei optato Non per la prima scelta Votata dai giudici Ma forse proprio su di voi Non è un lecchinaggio Ma effettivamente Poi magari Quando daremo i contatti Dove possono Gli ascoltatori Ripetire i vostri brani Gli ascoltatori Capiranno di cosa sto parlando Effettivamente Perché Lo stile Il musicale È veramente notevole Tornando a noi Il musicale Claudio Doviste Piazzati in finale E Avevate portato due brani Uno Che mi ha colpito particolarmente Ma dimmeli pure tu Abbiamo portato Il migliore E Strade Che erano Due dei nostri Anzi Il migliore È uno dei nostri brani storici Uno dei Più vecchi E più fortunati Che abbiamo E Strade Invece Viene dall'ultimo disco Tutti e due brani Scelti All'ultimo Secondo Dopo aver sentito Il soundcheck Delle altre band Abbiamo Optato per due brani Che spaccano il culo Come Esatto Potendo scegliere Abbiamo Dio che Subvertiamo un po' L'andamento della serata Allora vi ha fatto Le cose Un po' Dai che un po' Ci ho pensato E Cioè forse Con questa scelta Di portare due pezzi Così pesanti Un po' Forse ve la siete giocati La vittoria Sì Però ci siamo divertiti Un casino Immagino No e poi tra l'altro Questa cosa qui Non la sapevo Tra l'altro Che Avete deciso Sul perrotto della cuffia Di presentare Questi due brani Non lo sapevo E il migliore Praticamente Alla semifinale Abbiamo seguito Il pomeriggio Appunto Le prove volume Delle altre band E ci sembrava tutto Molto bello Ma molto educato E allora Appena ci hanno chiesto Ma ragazzi Che brani volete fare Dei due che avevamo Già scelto Abbiamo cambiato Completamente Abbiamo lanciato Questi due Esatto Il migliore Che tra l'altro Come tu dicevi Il brano storico Della band Anche Fortunati Uno dei più fortunati Caro Sajuz Devi sapere Che su Youtube Che non è Insomma L'ultimo L'ultimo social Arrivato Voi avete raggiunto Con quel brano Direi su 25.000 Circa 25.000 Visualizzazioni Quindi Un bel numero Un bel numero Se parliamo comunque Di una band Che Insomma Si sta ritagliando Nel suo piccolo Il suo spazio E adesso Poi magari Ne parleremo Durante la serata Un prezzo Veramente Ecco Quello appunto Che ti dicevo prima Che mi ha colpito Particolarmente Al di là Al di là del sound Anche per il messaggio Che trasmette Nel testo Appunto Notevole veramente Guardavo l'orario Sono già le 22.16 Quindi Come di consueto Mandiamo Prima Un brano musicale Caro Sajuz E dopo Ritorniamo ovviamente Con le origini Della specie Anzi con Claudio Una cosa importantissima Che mi preme Sottolineare Il brano che adesso Sentirete Non è Non fa parte Delle origini Della specie Proprio perché Loro ovviamente Sono Hanno depositato Il loro brano in C.I. E come ben sapete Noi invece Per una scelta Una chiara scelta Del network Essendo un network Indipendente Senza alcuno Scopo di lucro Non ci Sottossiamo Tra virgolette I documenti Imposti Dalla C.I. Ma Ci basiamo Sul creative commons Quindi Sulla musica Libera E fruibile a tutti Questa sera Quindi Non avremo modo Di usare I brani Creati Fatti Dalle origini Della specie Manderemo altri brani Per riempire Ecco Lo spazio Ma dopo Dopo appunto Questo stacco musicale Vi daremo Tutti i link E i contatti Per andare A reperire Ecco Il materiale L'arte Creata Da Claudio And Company Detto questo Mandiamo pure Il brano Che sarebbe Presentalo tu Priscilla Stondi Con Ode To Da Big To Credo Di averlo pronunciato In un inglese Osceno Ma credo che sia Una cosa Tipo Slang Io credo Che dopo questo Guarda Sei stata Ai livelli Di Sayus Ecco Quello volevo dire Insomma Hai praticamente Il vecchio Sta iniziando A deviare E forviare Ognuno di noi Pianpenino Io parlo troppo Tu che inizi A stopperino È fantastica Torneremo Bene All'abc Detto questo Mandiamo È bello che ci stai Anche Trovando È lodevole Questa cosa Mandiamo questo Brano Dei stondi E rimandiamo così Spazio Stacco musicale Ritorniamo Tra qualche minuto Sempre con Claudio Del Ligine della specie Che tra l'altro Ha messo anche il video Non so se Sayus Lo stai Sì sì Tutto a posta È bellissimo Claudio O lo studio Tutte due Iniziamo subito A sbavare Va bene Mandiamo Lo stacco musicale E ritorniamo qui Con Claudio Delle origini Della specie Prego Sayus Avffen Svive Li Affedi Svive Mi Hi Svive Mi Non Mi Plum Mi Mi Svive Mi Svive Di firms Grazie a tutti. 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 Noi facciamo i nostri brani, chiede a una band che genere fa è sempre un casino. Noi ci definiamo pop rock, anche se una volta un recensore ci ha detto che siamo super pop metal. Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti